hashtag noi amiamo gli animali perché il coniglio è socievole tutti i motivi allegro fedele e sempre pronto a fare amicizia ma come mai è così socievole in questo nuovo video pensato per voi da noi di amore a quattro zampe scopriremo come mai il coniglio ama stare sempre in compagnia è nella natura di questo lagomorfo dimostrare affetto e tenerezza nei confronti di tutti specialmente di chi se ne prende cura eppure essendo perfetto per la vita in famiglia la delicatezza della sua stazza non gli consente di essere un compagno di giochi adatto ai bambini risulta facile da addestrare e da gestire anche perché non mostra alcuna difficoltà a legarsi al suo umano che anzi dovrà tenere a bada il suo temperamento curioso e istintivo tanto da sembrare talvolta iperattivo di natura è socievole e rispetta le gerarchie nei gruppi familiari composti da sei a dieci elementi nei quali maschi e femmine dominanti comandano sugli altri essendo socievole per dna vivrà malissimo la solitudine poiché la socialità con i suoi simili e non solo gli consentirà di crescere bene ha bisogno di costanti prove di affetto e di amore soprattutto quando è cucciolo quindi prima di adottarne uno è opportuno rendersi conto del tempo a disposizione che potremo dedicargli per evitare che possa soffrire la solitudine e ammalarsi per questo motivo per questo video è proprio tutto se volete saperne ancora di più sulla socievolezza del coniglio cliccate sul link dell'articolo corrispondente ma non solo volete maggiori approfondimenti scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto e il vostro coniglio ama la vostra compagnia fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe ciao ciao ciao